E non lo passi ad te ma carina Ma carina Ma carina Ma carina Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video Sono Next di oggi Ragazzi siamo qui per fare le murder Sì pronto? Pronto buongiorno Pizzeria? Sì Vuole ordinare tre pizze Tre pizze come la vuole Che pizza vuole? Una diavola Una virus delle patatine E una con le acciughe Diavola piccante o senza piccante? Piccante I virus delle patatine Abbiamo quelli di Quelli vegani Quelli di dita Quelli umane Poi abbiamo quelle Quelle di pesce Altre cose Maiale niente Scusa ma come si permette? Maiale a chi è? Pervertito No allora A me non è sembrato Che mi siano uscite parole Volgari contro di lei No ho detto Che sono un maiale No 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 Lei attacca E adesso No vado Vado a quel paese Addio Ok Perfetto Cioè ragazzi Ho aperto una pizzeria E questo mi dà il maiale Ma che vergogna Allora Adesso chiamo Ale E le dico di farci venire qui Cioè di venire qua Pronto? Pronto Ale dove cazzo sei? È difficile da spiegare Ma come è difficile da spiegare? Sì è difficile da spiegare Perché? Perché Diciamo che È in mente lo SpaceX No Come no No Il razzo che è andato in orbita L'altro giorno Ah Vuoi dimmi il razzo? Eh sì Io mi ero aggrappato A uno dei motori Ma Non è andato tutto molto bene Diciamo È dove qua Bene Cioè quindi tu stai precipitando Ancora da Sono in orbita Da una settimana Ah quindi Quante volte hai fatto il gioco da terra? Ho ordinato una pizza E il tizio mi ha dato pure del maiale Cioè mi ha detto che io gli ho dato del maiale Pensa un po' te Ah Eh Sì vabbè Tutta sta gente Eh Si dovrebbe vergognare Dai su Andiamo Andiamo a farci uccidere da 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 Esatto Perché tanto lo murder siete? Ma non è vero? Bella ragazzi Qui Nuovo film di Iron Man Dobbiamo girare la scena Io sono Ma no Dovemmo girare la scena Io sono Iron Man Dov'è il green screen? Aspetta Qui c'è il green screen Dai regista Forza Vieni ad uccidere Tanto so che sei tu in murder La scena Passa di te Dai forza Non posso iniziare Dov'è 1,2,3 Chuck e via Vai 1,2,3 Azione Io Sono Ok Allora buona ma Troppo intenso Un po' più veloce Grazie Chuck 2 Azione Isleman Va bene così veloce? No Troppo veloce adesso Un pochettino più intenso Chuck 3 Azione Io Sono No Stacca 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 No Stacchiamo tutto Staccate Ora 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 Ma come Ora 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 Mi rifiuto di fare Sto lavoro Addio Ma come Avete scelto il pessimo Proprio quello pessimo 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 chi Scusi Guarda Come si Come si permette Lei mi scusi Io sono il migliore In mio campo Ho fatto Ben 8 film E va bene Mi hanno preso per Iron Man 3 Ma fa niente Hanno preso Robert Downey Jr Però gli altri film sono bravo Ma Non mi sembra vero eh Però Ma come No Solo perché c'era Solo perché c'era Robert Downey Jr Se no Le persone prendevano me Per fare film di Iron Man No 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 Sei morto Dalla tempesta Dai ma Ero quasi arrivato Ma La pula Nino Nino Ma la sessia dove sta Boh O la linea L'ho trovato Ecco Mi sa che l'ho trovato Ma non ne sono seguito 25 e 33 Tu quanto hai 75 Avevo e qualcosa Adesso 27 E adesso basta Andato a ponere 26 Bene Ovviamente Questo tizio di viola Davanti a lui Oh cazzo K Su 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 Appena Intanto so che si trova Guarda come taglia le curve Guarda Ma delle traiettorie così belle Non le fanno neanche i motogp Guarda Omea Guarda come ti sta recuperando Guardalo No 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 Cazzo hai preso terreno Bastardo Eh Non mi troverai mai Troppo velo Io sono velocità Ti ho superato No 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 Ma anche se senti gente morire oppure Sì Mi sento tanta Vuol dire che non siamo Né io né te Perfetto Questa cosa mi rincora Non so cosa me lo dice ma Sono invincibile per 26 godi Ma quindi se mi punto nel vuoto No Oh ma dove è tutta sta gente che muore Diciamo che se mi punto nel vuoto Non sei invincibile Oh cazzo Lì c'è un corpo qua vicino a me Ma si è morto? Sì Mi sono provato a buttarne nel vuoto Perché avrei vicino a me Dov'è l'arco? Dov'è l'arco? Cazzo qua vicino a me l'arco E' qua giù l'arco No è d'altra parte l'arco Se commenti so dove andi Dove cazzo è l'arco? No lo so Ma dove cazzo si esce in sto posto di merda? Dai dovrebbe essere qua davanti a me Ah eccolo qua Allora dimmi dove è l'assassino Eh non so chi sia Cercalo Siamo 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 in due Che cazzo vuoi? Siamo in due No siamo in tre No siamo in tre E' uno di E' per forza uno di quei due Siamo Allora vado a cercarle Ma te lo dico eh Allora Andiamo a vedere sta qua Andiamo a vedere Steve Allora no Steve è detective Quindi l'assassino E' lei l'assassino Non ci credo Non l'ho beccata Cos'è? Mi ha preso per il culo Non è l'assassino Steve Te si Ma che cazzo L'arco Ragazzi Mi stai facendo uccidere Una persona sbagliata Ma scusa Ce l'avevi te l'arco del detective? Si Ma dimmelo porca troppa Eh ma non ti stavo scusando Cioè Ma Ma sei un credito Vediti Ti seguirò finchè non mi darei il tuo segreto Io invece voglio che tu mi uccidi Adè Vuoi che ora che ti uccido? Non sono io l'assassino Eh Posso super segreto Vai vai Non ci guarda Non ci troverà nessuno qui Sei pronto? Voilà Allora Come va la vita? Bene 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 Si Ho appena comprato Questo immobile Sai Un buon affare Questa Questa scala Posso scendere e salire Posso scendere e salire Oh che bello Guarda l'arco qua davanti a me Ma no ma Ale c'è il tuo corpo qua Eh lo so Ehm Ehm Riccardo Ti twerco in faccia Il killer Chi? Ti twerco in faccia Ehm Quello lì Oh gg Twerco in faccia Tutte e due In una volta Su Adesso ci facciamo Un tuffo in In mare Dai andiamo Dai Ti sfido Ok vai forza Guarda 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 Vieni qua Guarda Guarda questo Triplo salto mortale Lì indietro Guarda Pronto Cioè guarda Troppo forte Aia Ma però dobbiamo uscire Ehm Ma Cosa Ho l'arco dell'assassino Dov'è Sei tu l'assassino No Mi ha ucciso sto qua Ma Cosa Mi ha ucciso Ma dov'è Mi ha ucciso Quello Il detective E dov'è il detective Chi è il detective Era Alex Quello davanti a te Leo mi ha ucciso il detective Non l'assassino Ah Pff Ma no Ecco perché Avevo il suo arco in mano Oh mio dio Il trampolino Con tre zombie sopra Mi unisco anche la festa Aspettate Weee 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 Ma no Cazzo Vabbè Oh Proline Io ti ricordo che vedevi una partita da sassino Una partita? D'assassino Ah Io non ho il potere Sono povero in questo periodo dell'anno Ti vedo Anch'io ti vedo Dai su uccidimi Andiamo in un posto privato Uccidimi So che sei tu l'assassino Vabbè andiamo No Io L'assicurazione L'assicurazione Oh cazzo Mi sta di avvertire No ok L'assassino è da tutta la parte Vai dall'altra parte della mappa Sì ma sai che io su un occhio di falco Vedo oltre i miei limiti Ma se porti gli occhiali Appunto Ma vedo sempre oltre i miei limiti Cazzo non ho già Ah è la zucca È l'uomo zucca L'arche qua davanti a me Solo che Non so perché Ma no Ma come Il mio avvocato ti ha mandato la fattura Dei soldi che mi dovrei dare Per la collaborazione con me Di essermi staccato le cuffie Ma non diri fesseria Mi devi mezzo milione Per aver fatto Una partita con me Quindi una partita Per tutte le tante che mi ha fatte Non so quante mi ha fatte Mi devi La 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 stima Del L'ho capito Mi sta laggando 3 2 1 Mi disconterò Ecco Io lo sapevo Che succedeva Questo Davvero Ma non eri l'assassino Io ero Era il Non ero Non ero nessuno Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Voi lasciate like Scrivete al canale Condividete questo video No Ma Allora Il tuo numero finisce con 74 12 Si 3 4 5 74 12 Si E' lo stesso numero del tizio Che mi ha chiesto la pizza E che mi ha chiamato Maiale Ritorno sullo SpaceX Addio Vieni qui Maniaco Ti faccio vedere io Chi è il maiale Torna qui Non mi ha chiesto le Ski